Ero molto teso per il Go Però sapevo di avere un buon cavallo Ho fatto un buon run Ma soprattutto è stato un cavallo solido E' indescrivibile quello che si prova Facendo una gara e vincendola soprattutto con un punteggio del genere Il cavallo è stato acquistato negli Stati Uniti Da me È stato acquistato a marzo di quest'anno Grazie al supporto di un carissimo socio E' stato allevato da Josh Visser a Weisborough in Texas Il cavallo comunque è arrivato qui con delle basi solide E' solo stato mantenuto E si è cercato solo eventualmente di mettere insieme il binomio tra me e il cavallo E' stata una bella finale Sapevo comunque di avere un buon cavallo solido E' andato tutto alla perfezione Il cavallo ho puntato tanto sul D-stop Dove alla fine mi ha appagato Il livello del cavallo era molto alto Perché anche nel Go di qualificazione Ci sono stati punteggi alti 2.14, 2.13, 2.15 e mezzo E quindi sapevo che era un run abbastanza duro da affrontare Grazie a tutti